Il titolo di campione regionale lo ha vinto con merito la Virtus Foggia, in generale però è stata la Puglia giovanile a trionfare nella finalità del campionato Under 15 maschile che si è svolta di recente al Palapinto di Mola di Bari. Impegnate le migliori otto formazioni del panorama regionale, quelle capaci di superare le fasi eliminatorie e di ritagliarsi uno spazio nel gota del basket giovanile pugliese. L'atto conclusivo ha evidenziato l'ottima fattura tecnica dei ragazzi della Virtus Foggia che hanno superato con il punteggio di 64-41 i pari età della biolevante nuova cesistica Barletta. I biancorossi, allenati da Ruggero Curci e Nicola Degni, hanno probabilmente pagato a caro prezzo nella finale per il titolo le fatiche dei giorni precedenti quando hanno sconfitto ai quarti proprio i padroni di casa del Mola per 61-55 e in semifinale il Lucera con il punteggio di 43-40. Stagione nel complesso estremamente positiva a livello giovanile comunque per la nuova cesistica che oltre al secondo posto conquistato con la propria Under 15 ha centrato la qualificazione alla Final 8 regionale anche con l'Under 17 maschile. Tornando alla finale a 8 di Mola di Bari, vittoria nel complesso meritata dicevamo per il quintetto Dauno che ha messo in evidenza un ottimo collettivo ed eccellenti individualità ha sofferto solo in semifinale per avere ragione della cesistica Ostuni. Hanno partecipato alla Final 8 Under 15 maschile anche Scuola Basket Martinese, Pulsano e Molfetta Ballers. Buono ed incoraggiante in proiezione futura il livello tecnico complessivo della manifestazione.